Si scrive Alfa ma si legge e gravò, l'ultimo nato fra le stelle di L'Op. È un pianetino di un milione di anni, poco più grande del pallone di Gianni. Chi l'ha scoperto l'ha trovato speciale e chi l'ha studiato non lo riesce a spiegare. Si danno tutti quanti un grande da fare per capire perché il cielo è giallo, la terra è blu, le piante, le fiori, le radici che guardano su. Il sole è dolce nell'acqua del mare, se soffia un po' il vento sta fermo e poi cambia colore. Ma perché lo vuoi scoprire e verlo così? Si scrive Alfa ma si legge e gravò, l'ultimo nato fra le stelle di L'Op. È un pianetino di un milione di anni, poco più grande del pallone di Gianni. Gino nello spazio intorno a un piccolo sole, come l'orzacchiotto segue l'orza maggiore. Così che Gino vuole ancora giocare tra le stelle. Salta e qualcuno ha detto che crescerà e come la terra un giorno lui ripeterà. Ma non ricorda, uguale o diverso, ognuno ha il suo posto in questo infinito diverso. Grazie mille.